In questo video vedremo come iscriversi per la prima volta a una Classroom e poi come si lavora all'interno della Classroom in base ai compiti che vengono assegnati da ogni docente. Innanzitutto è necessario fare login, cioè accedere alla nostra G Suite. La cosa migliore è sempre andare su gmail.com, potremmo trovarci già all'interno della nostra Gmail oppure ci può venire chiesto di scegliere l'account e di digitare la nostra password. Ci ritroveremo dentro la nostra Gmail. Per controllare se abbiamo fatto accesso con la mail corretta andiamo a vedere cliccando in alto a destra a fianco a G Suite e vediamo se l'indirizzo è quello chiocciolaatelier.cifagania.edu.it. Nella nostra email se siamo stati invitati a una Classroom troveremo una mail di invito. Apriamo il messaggio, scorriamo e clicchiamo su iscriviti. La prima volta in cui utilizziamo Classroom ci verrà chiesto di confermare che questo è l'account con cui vogliamo lavorare in Classroom e poi di dichiarare che siamo uno studente. Ci ritroviamo dentro questa schermata che comprende gli aggiornamenti che i professori o le maestre mettono sulla Classroom, il link per collegarsi alla videoconferenza in diretta quando avremo bisogno di collegarci a distanza e poi la sezione lavori del corso dove vengono visualizzati i compiti che vengono assegnati dal docente. È possibile usare G Suite anche da tablet o smartphone. Dovremo scaricare l'applicazione gratuita Classroom dall'App Store o dal Play Store. È quell'icona a forma di lavagna con sfondo verde. Ci clicchiamo sopra e vediamo se siamo già iscritti a delle Classroom l'elenco delle Classroom a cui possiamo partecipare per vedere i compiti assegnati. In alternativa è possibile se il docente ci ha dato un codice per iscriverci al corso, cliccare sul più ed iscriversi al corso in un modo diverso rispetto a quello fatto prima con l'email, cioè digitando proprio il codice formato da cifre e lettere che il docente ci avrà fornito dettandocelo sul diario o mandandocelo tramite il registro elettronico. Una volta cliccato su iscriviti si entrerà nella Classroom esattamente come abbiamo fatto prima entrando con l'invito mandato via email. Ritroviamo tutte le cose della Classroom con la particolarità che per partecipare a un'eventuale videoconferenza in diretta dobbiamo cliccare sulla telecamerina in alto. Cliccando sulla telecamerina passeremo automaticamente a Meet per partecipare alla riunione. Quando un docente assegna un nuovo compito ritroveremo un'email nella nostra casella di posta, ci arriverà una notifica se usiamo l'app di Classroom su tablet o smartphone, ma noi possiamo sempre andare sull'icona con i nove pallini, accedere a Classroom e verificare i lavori che abbiamo da fare grazie alla sezione da fare che si trova sia qui sia nel menu con tre lineette a cui si può accedere anche da dentro qualsiasi Classroom. Andiamo dunque a vedere che su da fare c'è un compito assegnato sull'età comunale. Cliccando qui oppure cliccando sull'email, sulla notifica o anche entrando direttamente nella singola Classroom, quella di storia e geografia, e andando a vedere le novità che ci sono, possiamo entrare sul compito. Il compito è l'insieme delle attività che l'insegnante vi ha chiesto di fare. In questo caso l'insegnante ha chiesto di guardare il video proposto e poi di andare a rispondere a delle domande all'interno di questa sezione il tuo lavoro. La scadenza è scritta qui. Il video si può guardare semplicemente cliccandoci sopra e poi quando vogliamo lavorare su una scheda che ci è stata già assegnata dal docente andiamo a cliccare su questo documento. Entriamo in una schermata che ci consente di modificare il testo e quindi possiamo rispondere alla domanda. Poi la domanda successiva e poi ancora l'ultima domanda. Possiamo anche interrompere il nostro lavoro, chiudere, andare a cena oppure riprendere il lavoro il giorno dopo, purché si è entro la scadenza, rientrarci anche da un'altra porta, per esempio da qui, dall'email, oppure anche riprendere il lavoro con il cellulare o con il tablet e andare sempre a lavorare su questa sezione che il tuo lavoro per completare il nostro testo. Una volta che il testo è completato si clicca sulla voce consegna e il lavoro viene consegnato al docente. Tornando al caso dello smartphone o del tablet, il vantaggio sarà che riceveremo anche una notifica che ci dà avvisa che abbiamo un compito da svolgere su Classroom, ma in alternativa possiamo sempre premere l'icona Classroom e andare nella Classroom specifica di storia e geografia e vedere quali compiti ci sono da fare. Entriamo nel compito la mappa del tuo quartiere e leggiamo le istruzioni. Disegna la mappa del tuo quartiere o borgo e restituiscila in forma di fotografia. Quindi questa volta avremo il vantaggio di avere tablet o smartphone e possiamo fare con facilità la fotografia direttamente da Classroom senza neppure dover attivare la fotocamera dall'applicazione esterna. Apriamo il tuo lavoro e clicchiamo su aggiungi allegato. Possiamo allegare diversi tipi di contenuto da drive, da un file presente sul cellulare o sul tablet, una foto già preesistente oppure andare a creare un documento, una diapositiva, un pdf. Ora ci interessa però usare direttamente la fotocamera da qui. Quindi clicchiamo su usa fotocamera e andiamo a fotografare il nostro lavoro. Clicchiamo su usa foto e il sistema provvederà a importare la foto appena realizzata dentro l'app di Classroom. Ecco ora cliccando su consegna possiamo consegnare il lavoro all'insegnante che provvederà a vederlo ed eventualmente valutarlo. Abbiamo quindi visto diverse maniere per interagire con l'insegnante e restituirgli il lavoro richiesto. Buon lavoro a tutti!